Ponte ciclopedonale sul Vomano si apre sabato 26 novembre con la presentazione del piano provinciale sulla ciclabilità e del piano nazionale strategico sulla mobilità. La provincia chiude un ciclo con l'apertura del ponte ciclopedonale sul Vomano, l'ultimo della costa teramana. Si conclude così il progetto iniziato nel 1997 con il corridoio verde adriatico, poi confluito nel programma By Two Cost della regione Abruzzo. Abbiamo fatto quello che ci siamo detti prefissati dall'inizio, l'ordinario di mettere a posto tantissime strade e di far ripartire una provincia che aveva le opere più importanti e bloccate. Una di queste era il ciclopedonale che era fermo per vari motivi, lo abbiamo promesso e lo abbiamo fatto. L'abbiamo fatto nel periodo peggiore della storia, con due anni di lockdown, con una guerra in corso. Noi con una guerra in corso siamo riusciti anche a consegnare il ponte. Di questo siamo felici perché è un'opera che si attendeva da tanti anni, un progetto anche di piste ciclabili che partiva da tantissimi anni. Però ecco, siamo arrivati. Questo è il messaggio più bello di dare risposta al territorio. Abbiamo collegato le sette sorelle, dico, da Martinsicuro a Silvi. Adesso cominceremo a collegare il mare con progetti che arriveranno fino alla montagna. La prossima partita che l'ente vuole giocare è quella della realizzazione dei collegamenti ciclabili, dalle vallate alla costa così come ipotizzate nel piano provinciale della mobilità ciclistica. La provincia ha già ottenuto un finanziamento per la progettazione di una delle ciclabili ipotizzate, quella del Tordino, meglio nota come Teramo Mare, perché parte dal capoluogo teramano per arrivare sulla costa. Sono anni che FIAB a livello nazionale si sta battendo per le ciclovie nazionali. Questa ciclovia, la ciclovia diereatica, adesso siamo riusciti ad inserirla come prima ciclovia nel piano Bici Italia che è stato riconosciuto nel piano nazionale per la mobilità ciclistica, che siamo riusciti anche a far approvare in tempi più rapidi possibili. Siamo contentissimi di questo, aspettavamo da anni questo evento.